Oggi la notizia è che la diminuzione del PIL è del 2,7%, cioè molto di più di quanto tutti gli organi del governo ipotizzavano. Questa è la dimostrazione del fallimento delle politiche che sono state fatte dal governo Monti, del fatto che con quelle politiche recessive abbiamo perso ricchezza, abbiamo perso posti di lavoro. Per questo è necessaria una svolta radicale, un cambiamento totale delle politiche economiche e del lavoro. Penso che il lavoro sia assolutamente la priorità, cioè non ci sia un argomento più importante del lavoro che è legato sia alle condizioni delle persone che vivono nel nostro paese, che il lavoro non trovano, il lavoro lo perdono, quindi il lavoro non soltanto come fonte di reddito ma anche condizioni sociali, dignità della persona, diritti. Insomma riassume su di sé il lavoro tante cose che si possono trovare dal giovane all'anziano che perde il lavoro e non lo ritrova e quindi può vivere una condizione futura così precaria quanto quella del giovane. Penso che questo sia l'argomento su cui stasera discuteremo e penso che tutte le forze di sinistra, di centro-sinistra, cioè coloro che si propongono per il cambiamento, devono avere l'ambizione di misurarsi su questo tema. Penso che l'attitudine della CGL, questo lo penso davvero personalmente, debba essere un'attitudine unitaria, cioè a convincere tutte le forze che si candidano a cambiamento, a lavorare insieme per proporre su questo tema, il tema del lavoro, davvero tutte le soluzioni possibili. Dalla crisi si esce rilanciando i diritti e la piena occupazione. Il binomio meno diritti più lavoro ha fallito. Per questo è necessario costruire una sinistra alternativa in questo paese e in Europa. Questa iniziativa rientra nel discorso del lavoro, priorità al lavoro. Abbiamo creato il nostro spazio democratico per far venire quasi tutte le più grandi RSU del comparto sestese e fiorentino e speriamo che questo dibattito sia produttivo e porti degli elementi di crescita sia al movimento sindacale che alla nostra lista. Quello che sta succedendo in questi giorni non è insomma colpa di Testino Cini e Baro. E' frutto di un percorso che inizia a lontano e che noi avevamo già denunciato a tempo, che è quello della globalizzazione e da applicazione integrale della politica nei confronti dei poteri finanziari. Il problema da questo punto è recuperare perché i suicidi che avvengono in questo paese, ma anche in altri paesi europei, evidentemente ci parlano di un sistema che è sbagliato nelle fondamenti del principio assoluto, un sistema che è davvero nemico dell'uomo, in cui la parola progresso è stata sottolineata dalla competitività, con tutto quello che ne deriva, facendo il terreno di lavoro, il terreno di scontro, assolutamente la finanza e la democrazia. Questo è quello che stiamo vivendo oggi. Il problema è che riusciremo a recuperarlo se non lo facciamo. Io ho paura che questo paese, insieme a tutti i paesi dell'area dell'euro, sprofondino e si salverà soltanto l'economia forte in Nord Europa. Vogliamo questo? Deve essere questa l'Europa che i padri abbiamo sognato?